Configurazione di una stampante HP LaserJet P1102W per una rete wireless da Windows Installare una stampante HP LaserJet P1102W per una rete wireless in Windows Per configurare e installare correttamente la stampante, sono necessari Un computer Windows connesso alla rete su cui si desidera installare la stampante Una stampante HP LaserJet P1102W accesa, con la carta già caricata Una connessione internet attiva Un cavo USB per la connessione temporanea E la password o la chiave della rete wireless, se richiesto dalla rete Sul computer, accedere a support.hp.com.drivers E seguire le istruzioni per scaricare il software della stampante, dotato di funzioni complete Dopo il download, aprire il software dal browser o dalla cartella download del computer Se richiesto, selezionare Sì per continuare Il software viene decompresso e avviato Se il software non viene avviato automaticamente, aprire Esplora File Accedere all'unità CI e selezionare la cartella con il nome della stampante seguito dalla dicitura FullSolution Avviare HP Setup.exe Se richiesto, selezionare Sì per continuare Selezionare Installazione Standard e scegliere Avanti Selezionare la stampante dall'elenco e quindi scegliere Avanti Selezionare Configura stampa tramite rete senza fili, quindi scegliere Avanti Il software e i driver vengono installati Quando richiesto, collegare un cavo USB dalla stampante al computer Viene rilevata la connessione e l'installazione continua Nell'utilità di configurazione wireless, scegliere Avanti Quando viene richiesto un metodo di rilevamento wireless, selezionare Automatico per ricercare le credenziali della rete wireless nel computer, quindi scegliere Avanti Vengono rilevate le credenziali di rete e viene visualizzato il nome della rete Scegliere Avanti La stampante si connette alla rete wireless Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer Quindi selezionare Fine sul computer Viene stampata una pagina di prova per confermare la connessione Ora è possibile iniziare a stampare in modalità wireless dalla stampante HP LaserJet P1102W Per trovare video HP in altre lingue, fare clic sulla scheda Playlist in YouTube Cercare nel nostro canale i video ufficiali del supporto HP Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!